La Facoltà di Architettura di Ferrara compie 20 anni e per festeggiare ha organizzato una serie di incontri intitolati Progettare il Domani. La Facoltà di Architettura guarda infatti al futuro senza dimenticare i risultati raggiunti nel recente passato. Per esempio i riconoscimenti ottenuti attraverso le classifiche della qualità accademica del Censis, in cui la nostra Facoltà di Architettura si piazza invariabilmente ai primi posti. Negli ultimi dieci anni noi siamo stati classificati dal Censis per otto anni, primi e per un paio d'anni e secondi. Quindi ci siamo sempre collocati in posizioni di eccellenza. Risultati acquisiti tramite una politica che ha puntato sulla qualità, sulla qualità della didattica, sulla qualità della ricerca. Qualità della didattica basata su dei numeri praticabili, anche perché noi in Italia non abbiamo necessità di avere migliaia di architetti, abbiamo necessità di avere dei bravi architetti. Secondo i dati di Alma Laurea, i neolaureati in architettura a Ferrara entrano nel mondo del lavoro piuttosto presto, soprattutto dopo l'introduzione due anni fa del corso di design del prodotto industriale, l'unico in regione. Merito spiega il prestito del metodo scelto dalla facoltà per preparare i propri studenti e futuri architetti. Una preparazione molto basata su esperienze internazionali. 25% dei nostri studenti fa esperienze all'estero, di studio in modalità Erasmus-Socrates. E queste sono delle modalità fortemente tonificanti, perché lo studente capisce che è in grado di competere con studenti di altri paesi. E questo preludia al fatto che sarà capace come professionista di competere con altri professionisti di altri paesi. All'inaugurazione del festival per il ventesimo anniversario della fondazione della facoltà sono stati presentati gli incontri, le mostre e le lezioni magistrali del 2011. E già da maggio a Ferrara potrebbe arrivare anche l'architetto di fama internazionale Massimiliano Fuxas. Intanto si pensa al futuro e a incrementare i rapporti con altre realtà scientifiche e di ricerca. Le prospettive future sono delle prospettive legate ad incrementare ulteriormente certi rapporti con l'esterno. Da un lato rapporti con la società in generale e con l'industria in particolare. E dall'altro lato con enti universitari, con istituzioni universitari e con enti di ricerca. Vi spieghiamo come abbiamo speso i vostri soldi. Era questo uno degli obiettivi dell'incontro con i cittadini organizzato nei giorni scorsi in piazza municipale dall'Università di Ferrara. I soldi in questione sono quelli del 5 per 1000 che ciascuno di noi può destinare, attraverso la propria dichiarazione dei redditi, a un ente che svolga attività di interesse sociale, tra queste la ricerca scientifica. Il denaro raccolto negli anni passati dall'Ateneo Estense, infatti, è stato interamente utilizzato per sostenere e cofinanziare la ricerca scientifica nei diversi settori in cui la nostra università è attiva. Per esempio è stato speso per l'acquisizione di strumentazioni per la diagnosi di malattie genetiche rare. È stato speso per l'avvio di progetti di riqualificazione architettonica ed urbanistica della nostra città, per esempio con il Dipartimento di Architettura. È stato speso con la spinta data alle attività dei dipartimenti umanistici per la riqualificazione del patrimonio letterario e culturale della nostra città. Quindi tutti quanti usi, tutte quante utilizzazioni che conservano da un lato l'alto livello scientifico per l'utilizzo di questi fondi, ma dall'altro lato hanno anche ricadute importanti per la collettività. Progetti di ricerca che quindi hanno ricadute importanti sul benessere, sulla salute, ma anche sulla qualità di vita dei cittadini. Ora, con le nuove scadenze per la dichiarazione dei redditi, l'Ateneo si augura che i ferraresi confermino il proprio sostegno finanziario alla ricerca. Noi siamo fiduciosi che, come in passato, la cittadinanza comprenderà l'importanza di dare un sostegno concreto, pratico ed efficace alla nostra Università e alla sua attività di ricerca. È un modo, questo, per sottolineare anche le responsabilità sociali dell'Università di Ferrara nei confronti della comunità in cui opera. I fondi derivanti dal 5 per 1000 non sono sufficienti a rimpiazzare i fondi sottratti alla ricerca dai tagli decisi dal governo. Tuttavia, l'individuazione di canali di finanziamento privati contribuisce a rinsaldare i legami tra la ricerca scientifica effettuata nei laboratori e nelle biblioteche, e la società e le comunità di riferimento. Come voi sapete molto bene, in un paese come il nostro, in cui giustamente gran parte della ricerca è finanziata attraverso fondi pubblici, è molto difficile riuscire a vicariare il contributo dello Stato. Tuttavia, la riappropriazione del finanziamento del 5 per 1000 e la scoperta o riscoperta di altre fonti di finanziamento e di contatti con i privati, con i cittadini, può servire da un lato ad alleviare il peso dei tagli che la ricerca scientifica sta subendo in Italia, ma dall'altro lato, e questo vorrei sottolinearlo, anche a riscoprire il valore sociale della scienza ed anche il controllo sociale sulla scienza. In quell'occasione è stata presentata anche la Notte dei ricercatori 2011, che si svolgerà venerdì 23 settembre, sempre in Centro Storico. La nuova edizione si presenta arricchita di nuove iniziative che coinvolgeranno il pubblico, con conferenze, esperimenti, spettacoli, sfide giocose, ideate, per consentire a tutti di avvicinarsi quanto più possibile alla scienza. Grazie a tutti!